All'anno prossimo 3.300 Allora, prendo il 3.800 4.000 4.000 alla 2 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 4.500 4.500 4.500 4.600 4.600 4.700 4.700 4.800 4.900 4.900 4.900 5.000 5.000 5.600 5.200 5.200 5.500 5.500 5.600 4.500 6.500 5.200 5.400 5.400 5.400 5.400 e 6.004, 6.002, ancora 2.004, 6.002, ancora 5.004, siamo a 6.002, ancora 5.004 al telefono, alla valutazione numero 5.005, quindi il prossimo bilancio di 6.004, arrivano da 6.004, 6.006, 6.006, 6.006, 6.005, il prossimo bilancio di 6.005, arrivano da 6.005, 7 mila 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 8 mila 8 mila 8 mila 8 mila 8000 riprendo alla votazione 2 8200 8200 8400 8600 8600 8600 8400 8400 8400 8600 8600 8600 8600 8600 8800 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 9, 9,9 è il nostro telefono, la situazione numero 5, prossimo bilancio, 9,2 che sono arrivati a ripetarli, la dotazione 2, 9,4 è il nostro bilancio, siamo a 9,290, 9,4 è il nostro bilancio. 9.200 euro per il massimo euro, confermo che la flottazione è 2 euro, quindi 9.200 euro per il massimo euro per la flottazione è 2 euro e 9.200 euro per la mezza alla flottazione è 2 compiti.